Il numero dei pazienti over 65 con frattura di femore prossimale aumenta progressivamente in Italia e nel mondo. Le difformità di prestazioni tra i diversi ospedali rispetto alla tempestività del trattamento ortopedico ha da tempo attirato l'attenzione del programmatore nazionale che ha inserito questa patologia all'interno degli indicatori del programma nazionale ESITI. Al fine di migliorare i risultati è richiesta una stretta integrazione tra l'ortopedico ed altri professionisti della salute con l'obiettivo di abbreviare i tempi di degenza pre e post operatoria e migliorare la ripresa funzionale del paziente. Sabato scorso a Pesaro durante un congresso presieduto dal dottor Luca Meme sono stati affrontati i vari punti di vista delle singole unità operative presenti nelle Marche. Inoltre sono stati valutati percorsi di gestione di questa patologia per uniformare le scelte sulla base dei dati della letteratura scientifica. All'incontro era presente anche l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Il tema molto importante è quello delle reti e soprattutto dell'ortopedia e della traumatologia. L'invecchiamento della popolazione fa sì che questo servizio sia un servizio che deve essere incentivato. In questo momento abbiamo una domanda piuttosto rilevante derivante dal fatto che i due anni di Covid hanno allungato liste d'attesa sulla materia. Quindi ci sono tante persone che hanno bisogno della programmazione dell'ortopedia. Di fatto in questo momento si lavora quasi esclusivamente con l'autotraumatologia e quindi abbiamo bisogno di riprogrammare un po' il sistema. Saltamartini ha poi fatto un appello ai medici chiedendo un aiuto nella riprogrammazione del sistema sanitario regionale in questa fase delicata a causa del blocco del tetto di spesa. La regione anche volendo ha dei limiti all'assunzione di medici che non sono stati formati e poi ci sono delle pesantissime criticità nei pronti soccorsi derivanti dal fatto che negli ultimi anni non si è investito nel modo assoluto sulla medicina del territorio. Quindi c'è questa grande carenza di medici in medicina generale, di continuità assistenziale che noi non possiamo coprire questi servizi proprio per la carenza dei medici. Quindi c'è un afflusso enorme nei pronti soccorsi che generano anche tensione sociale. Le case e gli ospedali di comunità, nonché le centrali operative territoriali previse dal PNRR, verranno realizzate prima del 2026, ha ricordato l'assessore, ma nel frattempo continuano a persistere delle gravi carenze nel sistema sanitario. Gli interventi sui pronti soccorsi sono interventi molto importanti che dobbiamo delineare adesso in questi giorni, in queste settimane, tenuto conto che va garantito l'esercizio, il godimento delle ferie, del riposo al personale sanitario. Con l'afflusso dei turisti che si prevede, numerosi, arriveranno nella regione Marche, c'è da tener conto che probabilmente il sistema sarà ancora tenuto sotto stress. E quindi ho chiesto ai sanitari la massima disponibilità a vedere forme riorganizzative che non siano imposte, ma siano coordinate, siano condivise da parte dei sanitari stessi. E' evidente che qui si tratta anche di rivedere un po' il trattamento di certi servizi gravosi, come quelli del pronto soccorso, di personale che lavora di notte, che lavora sabato, la domenica, trattamenti che in questo momento sono fortemente, a mio giudizio, sottostimati. Abbiamo inviato ieri un documento al governo, firmato da tutti gli assessori alla sanità, al Presidente del Consiglio Draghi e ai ministri competenti, per far sì che il contratto che in questo momento è svolgimento del personale della sanità trovi delle risposte adeguate, soprattutto per alcune prestazioni che sono i servizi notturni, i servizi festivi e soprattutto quelli caratterizzati da estremo disagio.